Come si sapeva da tempo, Candice Leray non ha rinnovato il contratto con la WWE e pare che il suo accordo con la federazione sia scaduto nei giorni scorsi. Candice è diventata mamma lo scorso mese di febbraio, mentre il suo compagno Johnny Gargano ha lasciato la WWE a dicembre, anche lui preferendo non estendere l'accordo lavorativo con la federazione. In una recente intervista Drew McIntyre ha ammesso che, guardando i numeri che genera nell'industria del wrestling, Roman Reigns è davvero quello che sposta gli equilibri. Non di meno si è ripromesso di batterlo quanto prima. Per le ultime sui bilanci WWE, cliccate qui sopra. Parecchi siti stanno scrivendo che la WWE non avrebbe mai avuto il desiderio di unificare i titoli tech team e che la sfida 3 contro 3 di Wrestlemania Backlash era stata prevista e congegnata da tempo. Io su questo sono un po' scettico, anche perché ce lo dicono ora a cose fatte e non ad esempio due o tre settimane fa.